Oh gente, visto che sta per uscire, che è, 13-14 giugno, mi ricordo The Boys, altresì nota come i Regatz, mi sembrava carino reincluderla in una top e poi ne farò anche un'altra tema e basta, ovviamente, non soltanto The Boys, oggi benvenuti su Watchmoji Italia, comunque per una top 10 supereroica fumettosa, come al solito di cui una parte è un remake reedit di un vecchio video tematicamente unito per formare un tutt'uno di differenze tra fumetto e serie tv o film assortiti, nel qual caso a tema The Boys e Marvel, soprattutto. A voi, se vi piace il video lasciate like, mi raccomando se no vi ammazzo e andiamo. Alla numero 10, nei fumetti è Kitty a viaggiare nel tempo, non Logan, però Wolverine lui deve fare tipo qualunque cosa la gente paga il biglietto del film, perché c'è Wolverine, non perché c'è una tipa che passa attraverso i muri e lo posso capire. Nella storia fumetti dei giorni del futuro passato, Kitty è quella che viene inviata a fermare Mistica, mentre nel film è lei che invia la coscienza di Logan, perché Logan è l'unico che potrebbe resistere a un salto temporale del genere, poi negli anni 70 era comunque informissima, cioè non invecchia e tutto il resto, gli altri alcuni manco erano nati. La cosa però che mi fa ridere è che Kitty, fino all'altro ieri al cinema, l'unica cosa che faceva era entrare nelle stanze passando attraverso le porte, ora può anche inviare coscienze nel passato. Ora, perché fa il caffè anche? E alla numero 9, Charles non è in sedia a rotelle per colpa di un proiettile. Come vediamo appunto nel film Magneto, nello scontro finale, reindirizza un proiettile come uno scemo verso Charles, piantandoglielo nella colonna e lasciandolo paralizzato. Ma così non è nel fumetto, in cui Xaver viene invece attaccato da Lucifer, un alieno interdimensionale col costumino rosso e viola impazzito che vuole conquistare la Terra e che lanciandogli un masso addosso gli spezza la schiena. Voi ora provate a figurarvi questa scena in testa e pensate, vorrei davvero averla vista nel mio film che vuole mantenere un tono abbastanza serio? La risposta, io penso che venga da sé, grazie al cielo il cambiamento c'è stato. E alla numero 8, nei fumetti gli X-Men sono considerati supereroi. Nei fumetti appartenere agli X-Men non ti fa appartenere a una categoria di disagiati e marginati odiati da mezza popolazione mondiale e infami mutanti bastardi. Nei fumetti è un onore, su carta quando arrivano gli X-Men la gente applaude, non chiude a chiave la porta di casa. Nei fumetti i genitori non dicono ai figli di non accettare caramelle dagli sconosciuti e dagli X-Men, ma così è nei film in cui comunque anche loro sembrano abbastanza disinteressati. Per gran parte del tempo sta cosa del salvare il mondo la facciamo soltanto se obbligati, per carità. Quando invece vorremmo soltanto stare a scolarci Martini nella piscina della nostra villetta, nei fumetti sono decisamente più coinvolti direi. E quei costumini se li mettono molto più spesso. E alla numero 7, la forza fenice viene dallo spazio. In effetti molte cose negli X-Men vengono dallo spazio, o sono alieni di ogni genere, o comunque quel genere di roba che viene dallo spazio. E devo dire a prezzo che non abbiano infarcito i film di tutti questi soliti cliché ultraterreni, molto alla fumetto supereroico anni 70-80. La forza fenice nei film, come saprete, viene da dentro Jill, è un suo potere interiore sopito e incontrollabile che si risveglia ed è molto bella come idea. Se poi non esistesse magari anche il film di Dark Phoenix sarebbe ancora meglio, però la logica dietro funziona. Molto meglio de sto coso spaziale che arriva e ti possiede, ma manco l'esorcista, veramente. È una cosa che non ho mai gradito troppo. E alla numero 6, l'altezza di Wolverine è sbagliata. E chi se ne frega direte voi concordo ragazzi miei, ma sapete come sono i fan quelli che ci credono troppo, no? E le proteste dopo il casting di Wolverine, molti anni fa per la trilogia originale, furono tantissime. Ma pensa tu, perché a differenza del metro e 88 ben piazzato di Hugh Jackman, che è un bel bestione, lo Wolverine fumettoso, sapete, lui è 1,61. Ora, con tutto il rispetto, nulla di male, eh, nel non essere dei veri stangoni. Ma, scusate, qui parliamo di Wolverine e supereroi. Seguendo questa scala, ritrovandomi al cinema Wolverine, che è alto più o meno come Rocket Raccoon o Howard il Papero, io direi che, alla numero 5, i costumini sono completamente diversi. What would you prefer? Yellow spandex? Sì? O forse no, non lo so, sono sempre stato molto indeciso, devo dire che le tute All Black cattivissime con la X sparata centro petto moderne sono una roba davvero stilosa, e magari su schermo non prenderesti con uguale serietà un gruppo composto da ghiaccioli umani, peluche blu giganti e gente con gli occhiali laser, se fosse inoltre anche vestito giallo canarino shock. Beh, sono punti di vista, e il costume di Wolverine coi cornini in effetti è sempre stato magnifico, ma capisco che forse non avrebbe giocato molto a favore. E alla numero 4, Rogue, in praticamente ogni cosa, è meglio nei fumetti. Questo perché non ci vuole molto per essere meglio di un personaggio che in tre film passa almeno tre quarti del tempo a piagnucolare e il restante quarto a quasi uccidere per sbaglio i nostri eroi. Rogue è veramente da latte alle ginocchia al cinema, anche per l'interpretazione dallo sguardo perennemente depresso al libito di Anna Pakin, che con il senno di poi mi ricorda Bella di Twilight, a livello scassamento di maroni per noia. Rogue dei fumetti è una tipa action, è una tipa anche cattiva, stile unico, si converte ai buoni, spacca culi nel film, che che fa? Fa a terrare un jet per bene, questo fa di lei un X-Men, anche io so far a terra i jet per bene, oddio forse no. Vabbè, però alla numero 3, Wolverine e Sabertooth non sono fratelli. E ok, può essere simpatica come idea se solo non ti infognassi poi da solo in una serie di problemi logici con i film del passato. Nel fumetto non c'è legame di parentela alcuno tra i due. Mentre nelle origini vediamo come la coppia sia malsanamente inseparabile, che poi i fratelli dei che infatti passano quasi tutto il tempo a cercare di ammazzarsi comunque. Va bene, sono amiconi, fratelloni, inseparabili, ma se è così, allora. Nei film della trilogia originale, che non sono sconnessi dai restanti moderni, i due non dovrebbero riconoscersi e Sabertooth non dovrebbe soprattutto non essere in quel modo, quindi perché? Perché fare una cosa del genere se poi non c'è legame con il passato? E alla numero 2, la formazione originale era un po' diversa. La line-up degli X-Men negli anni è mutata parecchio. Ah ah, questa era carina e anche involontaria. Però uno, vedendo i film, tenderebbe a pensare che il roster standard sia quello. Dopotutto, chi ci deve essere? Per forza Wolverine, ovviamente, poi Tempesta, Mitica. Ecco, Wolverine e Tempesta sono proprio i due che non ci dovevano essere. Anche perché nei fumetti fecero la loro comparsa molto più tardi, anni 70. Gli X-Men invece partono dal 63. Con Xavier, Jean, Ciclope, Bobby, Beast e Angelo. Vi rendete conto? Sì, per i film ci si rese conto che un angelico uomo piccione non era decisamente meglio di un uomo mezzo lupo auto-rigenerante con gli artigli di Adamantio e una tipa che crea tempeste. Per fortuna, direi. E alla numero 1, Magneto e Mistica. Nei fumetti non sono mica così buoni, perché nei film effettivamente il tempo che passano da buoni è molto. E anche ben speso. Magneto inizia buono, e anche con buone idee, e finisce buono quando si pente delle sue azioni. Non è una cosa che fa ridere, perché chi ha letto i fumetti saprà che Magneto, ma proprio non esiste, è un pazzo furioso e mistica. Uguale. No come nei film, che ha le crisi di coscienza, è plagiata, in realtà nel passato è pure quella con la testa più sulle spalle, insegna cose ai giovani, guida, filosofeggia. Mistica nei fumetti, spezza colli come se non ci fosse un domani di un futuro passato. Diciamo che l'hanno alleggeriti nei film, anche perché a livello di evoluzione e costruzione personaggi, beh, funziona. Se vi dovessi dire, in effetti, a parte Wolverine, che ovviamente trascende qualunque classifica, se dovessi pensare ai miei due personaggi X-Men preferiti, sarebbero proprio Magneto e Mistica. E ora la seconda parte. Alla numero 10, Yui, che non è un dilettante allo sparaglio. Anzi, è preparatissimo in materia di sbudellamenti anti-eroi, ha un master in massacri ben pianificati e un dottorato su come farsi non beccare nel bel mezzo di un'azione chiaramente illegale. Tutte cose che puntualmente accadono nella serie. Nel fumetto, anzi, si allena prima di cacciare i sette con altri piccoli gruppetti di eroi e poi punta il pesce grosso, tutto ben congeniato. Non è come nella serie che è tipo... Ciao, io sono Yui, sono incazzatissimo, la mia ragazza l'avete spappolata, vendetta, vendetta e viene pestato, ovviamente. Ogni volta, soprattutto da Translucent, rischiando come cagare in di rimanerci secco. È tutto completamente diverso, giusto? Non ha quel costumino da mentecatto preso a divertilandi, almeno. E alla numero 9, Bacher, che è davvero finanziato dalla scia. Visto nella serie si presenta Yui tipo... Ehi, amico, ammazziamo un po' di supereroi assieme? Perché sai, tanto io sono dell'FBI. È tutto ok. Yui non ci crede, ma dopo un bel massacro, 70 litri di sangue versati, budella su vetrine e roba simile, dice... Cazzarola, bel casino. Ma fortuna che tu sei dell'FBI, no? Nessuno ci dirà niente. Vero? Ma ecco, volevo dirti una cosa riguardo a quel punto dell'FBI. Non è vero. Nel fumetto è un po' diverso. Difatti, Bacher è davvero finanziato dalla scia, però, in quel caso, che gli fornisce ogni genere di ficata, gli para le spalle a ogni problema, dandogli il permesso di massacrare chiunque, diciamo, che la versione televisiva è un po' più alla fai-da-te. E alla numero 8, in effetti, direttamente tutto Yui. Dicevamo del costumino da disadattato, ma anche per il resto dell'aspetto non è che somigli molto alla sua controparte su carta. Anzi, lo Yui del fumetto è, stranamente quasi in maniera comica, identico a Simon Pegg, versione, però, tagliagole irlandese. Completamente diverso rispetto al collegiale un po' qualunque interpretato alla grande da Jack Quaid, che tra l'altro, non so se sapevate, ma è il figlio di Dennis Quaid? Nella realtà e nella serie, invece, è il figlio di Simon Pegg, che al posto di interpretare il se stesso identico del fumetto, interpreta il padre di se stesso identico nella serie ed è quindi al contempo il figlio e il padre di se stesso... Metacasting. E alla numero 7, Yui, che ha palesi problemi di memoria nella serie quando inizia a frequentarsi con Annie, che in realtà, no, è la supereroina Starlight, e lo sa tipo mezzo mondo, perché questi so sulle cover di qualunque rivista, ma lui, che odia tutti i supereroi, li conosce tutti quanti, in qualche maniera è vittima di un incredibile effetto Clark Kent, direi, quando la incontra su una panchina in borghese, poi la rivede vestita da Starlight e fa tipo Cosa? Tu sei Starlight? Amico, aveva soltanto i capelli messi in maniera diversa, non era tanto. Difficile. Nel fumetto, almeno da subito, Yui non ha idea di chi sia Starlight e lo capisce soltanto quando quella inizia a volargli davanti, perlomeno. E alla numero 6, il personaggio di Steelwell, il manager dei sette, che è anche peggio di tutti i sette, per cui fa la gente. Sì, proprio quello che nel fumetto, per impedire che venga fatta una brutta pubblicità al suo gruppo da parte di un altro team e glieli fa massacrare tutti quanti quelli dell'altro team, giustamente. È un umetto dall'aria abbastanza boriosa che in diversi momenti resta in piedi davanti a un Homelander dall'occhio che sta per lanciare il laserino facile senza battere ciglio. Uno con le palle ottagonali, completamente diverso dalla versione al femminile più morbosa dalla relazione malata con Homelander appunto, che la lascia anche un po' scottata nel finale della sua storyline in un cambiamento comunque. Davvero ben riuscito. E alla numero 5, la prima mattata di Yui. Poi ci prende la mano a squartare chiunque, ma all'inizio giustamente fa un pochino il timidone. Mentre nella serie però la sua prima kill arriva quando, con un'espressione stupenda alla fanculo tutto quanto, decide che forse traslucente è meglio farlo esplodere in un magnifico purè di sangue budella, dopo che quello prova a fuggire dalla gabbia nella quale l'avevano rinchiuso. Nel fumetto la cosa è più involontaria, diciamo, in uno dei suoi primi confronti tra Boyce e un altro gruppo di supereroi, tra cui Supercock, esatto, ecco Yui ammazza Supercock trapassandogli le budella con un cazzotto. Eh, come prego? Eh, sì, esatto. E alla numero 4, quello che succede a Starlight, e non è bello neanche nel fumetto, ma almeno la serie ti lascia un pochino di speranza per Starlight che viene pesantemente molestata sessualmente da Deep, quel pighetto picchiabilissimo veramente insopportabile che prova a fare il durissimo tutto quanto, e in pratica la violenta minacciandola di espulsione dai set in caso non sia disposta ad accettare. E alla fine però Annie, per usare un tecnicismo, lo sputtana in tv nazionale facendola appunto rimuovere dai set nel fumetto, però hanno giù molto più pesante e fa ridere un pochino pensando a quanto la serie sia già pesa del suo, ma il fumetto è anche peggio, Annie viene accerchiata da A3 in Homelander e Black Noir che le fanno la stessa cosa, soltanto che senza poi essere denunciati. È una roba veramente terrificante. E alla numero 3, la sequenza dell'aereo dirottato, che anche questa nel fumetto è peggio, come può essere peggio qualcosa che includa una persona che va a salvare dei passeggeri di un aereo che a bordo dei terroristi nel farlo ammazza il pilota, frigge i comandi del velivolo perché è un imbecille e per non lasciare prove della sua grandissima professionalità fa schiantare l'aereo in mare con conseguente morte di tutti quelli a bordo, come può essere peggio questo così? Facendo che quell'aereo è dirottato non in un giorno qualunque, ma l'11 settembre del 2001. Homelander e Maeve fanno lo stesso disastro, ma quell'aereo però, al posto che in mare, lo fanno schiantare sul ponte di Brooklyn, uccidendo qualche altro migliaio di persone. Madonna sangue. E alla numero due, i superpoteri dei boys. Ecco, il fattore azione improvvisata, un po' fatta in casa della serie, devo dire, da quel qualcosa in più, quel pepe in più, perché nel fumetto i boys hanno tutti i superpoteri, sì, nella serie c'è chimico, ma è l'unica, gli altri non stanno tutto il tempo a calarsi il compound, ossia la droga quella creata dai nazisti nel 1930 per farsi venire i superpoteri. Nel fumetto rende la storia un po' diversa, soprattutto più equilibrata. In TV, siccome i train, a forza di assumerla, a momenti ci rimane secco, praticamente nessuno ne fa utilizzo. E gli scontri sono per questo più movimentati, uno si potrebbe chiedere come delle persone assolutamente normali riescano a cavarsela contro gente che spara laser e fulmini, ma per ora è stato tutto più o meno credibile. E alla numero uno, la moglie di Butcher. Io purtroppo come un deficiente temo di aver subito uno spoiler grande come una casa sulla seconda, però la storia della povera Becca è diversa, molto diversa. Su carta nella serie abbiamo il twist finale, alla fine della prima in cui si scopre che è ancora viva e sta crescendo il figlio di Homelander. Nel fumetto, ecco, è sempre peggio. Partorisce suo figlio morendone il mentre e il figlio inizia a sparare raggi laser dagli occhi, così che Butcher per autodifesa lo ammazza e poi, in preda a un delirio, inizia a pensare che sua moglie sia stata uccisa da qualche supereroe e da lì inizia la sua caccia. Se pensavate che la serie fosse cattiva, forse non avevate capito il materiale di partenza che cosa fosse. Grazie a tutti.